Oggi il birneria del burgo è in trasferta eh! Andiamo al Conero! Oggi è un filmo di Rappersi 3! E' 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 un filmo di Rappersi 3! Che cosa fare ? Ti carikgali? Io c'či una domanda! Quei tu levo in risade! Me chavi il soltino! Buona domanda,iksende l'assunниo! Buona domanda! Per fareノ un genoc, Per fare niente. C'è l'escolto da qua? We met some girls, some dancers who gave a good time Broke all the rules, played all the fools Yeah, yeah, they, they, they blew our minds I was shaking at the knees Could I come again, please? Yeah, the ladies were too kind You've been, Thundercroft Thunders Rock Thunders Rock Thunders Rock Grazie all storyline hey hey La 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 Eeeh, troppo sottolano. 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 Eeeh, troppo sottolano.